Ciao ragazzi, ciao a tutti e a tutti, nuovo video come state, spero bene, allora dunque sono in camera mia come potete ben vedere e niente devo fare il mio letto, lo so che non ha senso fare questi video così ma mi piacciono e li faccio perché tengo che vi faccio la compagnia sia a voi che a me, quindi niente, volevo dirvi che voglio fare questo video insieme a voi per farli appunto a compagnia e rilassarli un po' con me, intanto vi faccio questo bellissimo pantalone che mi ha regalato mia nonna, vedete questo è un pantalone bellissimo, adoro, bellissimo insomma, non mi piace tanto però per stare in casa va tutto bene, vedete che bello che è, è molto molto bello direi sì, non so cosa voi potete percepire ma a me sto pantalone mi piace davvero tanto, niente se lo so prima ho detto che non mi faceva impazzire ma il colore mi piace, diciamo che il colore è bello e porto come a volte i rosetti che porto io, però niente vabbè questo è quanto, se tengo, se terrei bene la telecamera in mano, tutto è tremolante ecco qua, vedete già, non fate caso alla mia, al mio modo di vestirmi però vabbè questa qua di sopra la canotta ma non ce le può fregare nemmeno e niente eccomi qua ciao, eccomi qua praticamente sto per cercare di fare qualche video oggi, anzi qualche video, oggi sto registrando questo video che non so nemmeno quando me lo vedrete se vi metto, se vi metto, ho il palletto questo qua, ho il palletto, comunque niente com'è andata oggi la giornata? sono andata a fare spesa all'Eurospin finalmente sì, se mi state chiedendo se mi sono fatta accompagnare insieme a mia nonna con altre persone no, ho preso un carrellino, preso da una nostra amica di famiglia lei aveva già ovviamente il suo carrellino e dal carrellino l'ha comprato da una ferramenta da una signora che ha ferramenta e niente e lì da lì si è recata a casa qui a casa nostra e nulla nel frattempo mi sono preparata non ho fatto il video sulla spesa per grazie erano tante cose assieme e quindi no, non me le sono sentite troppo stanche, affaticate e quindi ho detto no meglio di no al limite racconto quante cose ho preso qui ho preso un bel po' di mangiare qualche dolciume qualche dolce che ovviamente non faremo perché abbiamo pensato che è una cosa per fare il budino cioè un un cosa di budino ma nulla da fare non lo faremo perché altrimenti il rotolo che non vabbè, non voglio fare un po' di scemi ma è così se mangio troppi dolci addio colesterolo perché voi non lo sapete ma io ho colesterolo quasi 220 non va bene per niente mi dovrei controllare anzi mi sono già fatta controllare io sto mangiando cercando di mangiare adeguatamente anche se non è adeguatamente anche se non è facile però nulla cercavo di mantenermi di più anche se non ce la faccio a controllarmi a mangiare quindi nulla a sto punto mi devo controllare per forza a fare come si può dire una dieta abbastanza equilibrata perché peso anche un po' troppo ma non vi dico quanto perché già lo saprete se volete te ve lo dico peso 75 kg vi direte cosa? si 75 kg lo so è una vergogna devo dire di più cercare di togliere questa pancia che ho da qua sopra e va bene mi proporrete ma che mi vergogno ma non c'è da vergognarci c'è da fare tanta palestra tanto movimento e la pancia forse dico forse da violette andrà via bene ragazzo ora vi metto qua attaccate al al cavalletto e in faccia il letto lo farò così alla cavolo ma la faccia almeno e a dopo aspettate un attimo che vi prelevo allora no ragazzi miei ragazzi miei ragazzi miei ragazzi ragazzi miei dunque mi avete aver visto fare il letto e nulla questo sarà un breve video per parlare un po' con voi farvi un po' di compagnia e allora questo è il trucco di oggi che per voi può essere una schifezza ma a me piace e tra poco tanto mi strucco quindi nulla e mi devo struccare perché non ce la faccio più a stare con questo trucco mi piace ma è bene che intanto mi libero da questa maschera ma vabbè dettagli niente e quindi nulla adesso io mi strucco e mi metto di nuovo comoda con i pantaloni perché questo pantaloni è bello ma la sento un po' pastidioso mi piace come colore ma il tessuto non mi fa impazzire quindi a dopo mi vesto un'altra cosa anzi a dopo e un altro video ciao ragazzi ah non ve l'ho detto ve lo dico adesso se il video vi è piaciuto like commento iscrivetevi e attivate la campanella se vi va di rimanere ragionato sul mio canale youtube ciao